Ciao a tutti e a tutte, ieri purtroppo non sono riuscito a pubblicare subito il video perché dopo tornato dalla partita era tardi, non potevo riprendere e poi mi ho detto che a questo punto era meglio mandarlo direttamente dopo per fare il day after e finita 2-2 ieri la partita fra Bayer Leverkusen e Roma in Germania a ritorno della semifinale di Europa League risultato che dunque consente al Bayer Leverkusen di andare in finale contro l'Atalanta che ha battuto 3-0 in casa al Marsiglia inutile dire finale indubbiamente strameritata andremo a vedere visto che con quella di ieri il Bayer Leverkusen ha fatto il 49esimo risultato utile consecutivo partita che lascia sicuramente molto amaro in bocca per come si era messa per come la Roma partiva molto svantaggiata in pochi avrebbero dato pronosticabile il tentativo della rimonta o almeno chi ci credeva sapeva che andava comunque a sperare in qualcosa di praticamente impossibile ma questo è successo la Roma ieri è entrata in campo senza paura sapendo che giocava contro un avversario di massimo rispetto che quest'anno è la migliore in Europa che all'andata ha saputo non perdonare gli errori degli avversari quindi ieri la Roma sapeva che doveva fare una partita assolutamente perfetta e così è stato diciamo la Roma passa in vantaggio con un rigore solare tirato in maniera fredda dal campione del mondo Paredes a cui vanno infatti i complimenti non solo per la partita in sé ma anche per la sua prestazione egregia da quando De Rossi è arrivato sulla panchina della Roma Paredes che lo sappiamo con Mourinho sembrava quasi non aver trovato il bandolo della Matassa non riusciva più a ritrovare se stesso ieri invece ha fatto una grandissima prova di sacrificio di bravura, di responsabilità verso questa squadra fino a quel momento ci è andata bene sicuramente siamo stati anche fortunati c'è il pallone che era stato deviato finito sulla spalla di Svillard che clamorosamente non riesce ad entrare in porta e lì subito pronto indica a spazzare poi i tiri che facevano loro alcuni fuori altri ci ha messo le mani in maniera evidente Svillard che ancora una volta ha salvato questa Roma facendo delle parate importantissime sicuramente è anche vero che la difesa della Roma era un po' più concentrata e unita sapendo che non doveva concedere niente al Bayer Leverkusen risultato che poi rimane solo 1-0 a fine primo tempo poi al secondo tempo la Roma rientra con la stessa intensità con la stessa aggressività riesce a fare un 2-0 sempre su rigore però anche stavolta è netto per mano sempre Paredes che sempre in maniera molto carismatica riesce a segnare il 2-0 fino a quel momento era fattibilissimo riuscire a portarla quantomeno ai supplementari partita che non aveva molto da dire diciamo sembrava che proprio nel complesso ci stava girando tutto a nostro favore i miracoli di Svilar gli errori sicuramente loro poi i due rigori che però bisogna segnare perché in una competizione del genere una partita così importante è fondamentale anche riuscire a segnare i rigori avere questa freddezza quindi Paredes ci è riuscito e nulla da dire poi purtroppo l'episodio che ha caratterizzato la partita in sé il ritorno autovol di Mancini su cui però non ci si poteva fare niente lì secondo me l'errore è più che altro di Smalling che era uscito male ha anticipato Svilar che poi è stato costretto a a cadere in quel modo e la palla è finita letteralmente sulla testa di Mancini che poi l'ha portata in porta lì veramente pura sfortuna niente di che Bayer River Cuse anche così in questo mondo si è potuto diciamo svegliare un po' di più fino al 2-0 veramente sembrava che erano stati messi in difficoltà avevano paura di aver compromesso il risultato dell'andata non ci credevano neanche loro secondo me poi vabbè con l'ultima azione al 96 sono riusciti a fare il 2-2 quindi neanche questa partita sono riusciti a perdere ma da Romanista se vi devo dire la verità forse è anche meglio così nel senso che col 2-1 si sarebbe stato un po' più la mano in bocca sapendo che tu sei arrivato di tantissimo così a a portarla a supplementare e poi sei riuscito a battere la loro strescia di risultati che li conseguti ma senza passare mentre col 2-2 diciamo risultato secondo me anche sincero perché voglio dire il Bayern Leverkusen mette così la ciliegina sulla torta a quella che è la loro forza la loro bravura a quello che è il campionato che loro stanno facendo quello che è il cammino che stanno facendo con Xabi Alonso da quando è arrivato in panchina da quella famosa sconfitta in semifinale d'Europa League sempre contro la Roma con gol di Bovio all'Olimpico e poi 0-0 a ritorno qui invece è successo il contrario diciamo al netto degli scongiuri che si possono fare se siete italiani o se siete tifosi dell'Atalanta addirittura diciamo meriterebbero di fare qualcosa soprattutto in finale perché così darebbe un ulteriore senso incoronare addirittura con una vittoria ma questo è un altro discorso partita in cui c'è da fare diciamo i complimenti a molti a Spinazzola che purtroppo è stato costretto a uscire che però fino a quel momento stava facendo il suo stava dando un grandissimo contributo poi anche a Ndika non solo sul salvataggio ma anche per come ha gestito il pallone a Lukaku anche che si è fatto trovare pronto in due occasioni non mi è piaciuto moltissimo il nostro capitano Pellegrini devo dire la verità a parte quell'occasione in cui però il tiro il colpo di testa è stato un po' ammorbido ma non ha fatto una partita da 8-9 non è il Pellegrini che abbiamo visto negli ultimi mesi con De Rossi in panchina ci può anche stare e Sharawi che si conferma ancora una volta titolarissimo di questa Roma poi non mi è piaciuto Zaleschi che però non è una novità da ragazzi di Zaleschi è questo ormai è l'ombra di se stesso non è più quello che si era fatto vedere nella semifinale col Manchester United con Fonseca però a parte questo diciamo non si può dire molto di che l'importante era che non abbia fatto delle papere come all'andata entra Abram Smalling negli ultimi minuti e forse è stato lì il momento scusate metto a posto bene la telecamera e forse è stato quello il momento che ha ammazzato la partita io non mi sento adesso di responsabilizzare ulteriormente loro due ma voler fare una battuta non è secondo me una coincidenza il fatto che proprio quando sono entrati loro la partita è stata compromessa però va bene comunque non mi sento di dire molto e di di dire altro perché la Roma ieri ha fatto veramente una partita eccellente al di là poi di quelle che sono gli sfottori che francamente non capisco anche perché non è che tragano benefici nello sfottere una squadra che comunque ha fatto quattro semifinali europei consecutivi due finali consecutive di cui una vinta in conference cinque semifinali in sette stagioni e e che ha vinto una competizione dove comunque la Lazio è uscita per coerenza dopo che l'anno prima l'aveva snobbata quindi non mi sento di 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 trovare ragioni di questa cosa però vabbè insomma ognuno poi fa le sue valutazioni e se deve prendere le giuste responsabilità detto questo io chiudo qua il video grazie ad averlo visto testa adesso a Bergamo dovremo affrontare in casa loro la nuova finalista di Europa League dobbiamo centrare l'obiettivo adesso unico che è quello di un posto alto in classifica che consentirebbe l'accesso in Champions League dobbiamo dedicarci a queste ultime tre giornate di campionato considerando anche che la stessa Atalanta deve ancora recuperare la partita con la Fiorentina che a questo punto sarà a fine campionato Fiorentina che tra l'altro è in finale di conferenza per la seconda volta consecutiva quindi complimenti a loro detto questo ciao a tutti a tutte grazie ad aver visto il video mettete like condividete e sempre forza Roma grazie a tutti